Lasciate andare a disposizioni tecniche, molti allenatori che sono stati da qua e tutti pensavano che Milano avesse bisogno di una prima punta. Sentiamo un attimo però. Adesso va sul palco. Stavo dicendo appunto che probabilmente eravamo lontani dalla realtà della gente, dai cuori della gente. Ecco, questo è un aspetto che secondo me va anche sottolineare. Andiamo a Pierluigi Pardo, il collegamento da San Siro. Pierluigi. Vediamoli insieme. Siamo testimoni comunque di un momento bellissimo, quello che sta riferendo ai vostri occhi. Adesso Ronaldinho comincerà a palleggiare, insomma, l'ambizione nemmeno tanto nascosta dei dirigenti del Milan è che possa fare un po' di freestyle, come dicevamo prima, con Adriano Galliani, che possa far vedere qualcuno dei suoi numeri da capogiro, che ha fatto vedere in questi anni a Barcellona. E quindi adesso, insomma, al di là delle mie parole, lo spettacolo immagino lo faranno i loro piedi. Eccoli qua, Alessandro. Io fossi nei bianchi, sarei un po' di difficoltà, invece loro mi chiamano perfettamente al loro asia. E datemi il pallone, perché voglio vedere anche il Bernardino. Il palleggio di stinco è una specialità di assoluzione. Di stinco non devo vedere. Anche. Cioè quello lo faccio anche io. Lo fai anche io. La legge di tacco un po' più. Allora, vediamo un po'. Pierluigi. Guardi, intanto ti posso dire che abbiamo già sentito la canzone che i tifosi del Napoli cantavano per Maradona, no? Uè, mamma, innamorato, non so, qualcosa del genere. Ho visto Maradona e qui è diventato un fissoronaldino. Insomma, credo che dal punto di vista della spettacolarità nella presentazione di un giocatore ci avviciniamo a quei livelli lì. Insomma, quella presentazione è rimasta nella storia. E qui un po' lo stesso tipo di emozione. Allora, questi numeri solitamente sono finestre stesse, no? Sì, ma adesso lui si diverte sicuramente, però è un qualcosa in più che lui fa come giocatore. No, appunto, ma infatti volevo sottolineare quello che dicevo qui. Lui ha una forza incredibile. È un giocatore che poi, tornando al discorso di prima, lui ha giocato tante volte anche il Barcellona come prima punta scambiandosi con Samuel, quindi è un giocatore che quando è in condizioni fisiche ottimali fa la differenza. Sì, ma anche perché dà l'impressione di essere un po' gracile, in realtà è gracile per niente, perché ha una potenza, una forza, una capacità, lo scatto è incredibile. Chi lo ha osservato dal bordo campo, o sul campo, come compagno, come Demetrio Albertini, insomma, ha sempre sottolineato questo connubio tra la tecnica e la forza fisica. Attenzione. Voglio sottolineare che non è facile palleggiare così, davanti a 30.000 spettatori, perché veramente... Ok, ringraziamo! ...con un arancio come piace Maradona. Abbasparide, Tuzanin! Grazie, grazie, grazie.